129 anni di attività con le radici, ma anche il cuore, la testa e il comando sempre ben piantati a Ragusa. Ora tutto ciò sta per finire. La banca agricola popolare per la prima volta potrebbe essere retta da un manager reclutato all'esterno. Fuori da Ragusa e fuori dalla famiglia che la governa fin dal 1902, quando Luigi Cartia ne diviene direttore, subentrando a Carmelo Scribano. Da allora quel cognome tiene in pugno e fa crescere la banca. Nel 1932 è la volta di Gian Battista Cartia, al comando per 55 anni, fino all'88, quando alla presidenza gli succede Mario Schininà. Ma da 18 anni già allora il capo azienda, ovvero il direttore centrale, è Giovanni Cartia, figlio di Gian Battista. E anche per l'erede, la longevità al potere, è un marchio di famiglia. Nel 1954, a 26 anni, è preposto a Comiso. Sette anni dopo, in sede centrale, guida all'ufficio a Fidi. Quindi con direttore e nel 70 direttore. Fino al 2001, quando a 73 anni lascia la carica per assumere quella di vicepresidente e amministratore delegato, e dall'anno successivo quella di presidente. Fino a pochi mesi fa, quando gli succede, Arturo Schininà. Giovanni Cartia, quindi, sulle orme del padre Gian Battista, con 64 anni di ininterrotto servizio in banca, 48 dei quali da capo azienda, a fronte dei 55 del genitore. Insomma, un secolo di governo della banca in appena due generazioni di famiglia, padre e figlio. Ora la svolta, dicevamo. Per la prima volta un direttore reclutato fuori dalla cerchia. Perché? Paradossalmente, proprio per la presenza ancora influente del novantenne Giovanni Cartia. Sarebbe per contrasti con lui, ancorché privo di cariche formali, che il figlio Gian Battista, direttore generale dal 2013 di recente, si è dimesso. A suo posto il vice direttore anziano Gaetano Cartia, che ne è cugino, ma solo per il tempo necessario a trovare un nuovo manager. E la scelta potrebbe cadere su Saverio Continella, catenese, 51 anni, proveniente dal credito valtellinese. Sarebbe una rivoluzione per la prima volta un non ragusano, addirittura esterno alla banca agricola, che oggi, nell'isola, è anche la maggiore banca totalmente siciliana. La rottura tra l'ormai ex direttore generale e il padre novantenne, sulla carta fuori ma ancora in grado di dettare la linea, preoccupa i quasi mille lavoratori, oltre che i 18.000 azionisti, solo il 70% dei quali è in provincia di Ragusa. Non sono mancati segnali di una permeabilità del tutto nuova ad interessi esterni al territorio ebleo, soprattutto catenesi, nel momento in cui sono stati chiusi sportelli e si parla di tagli al personale. E il nuovo direttore generale sarà chiamato a completare il piano di cessione dei non-performing loan, i crediti deteriorati. Già venduti 350 milioni, la prossima tranche ne libererà altri 400. E i contraccolpi potrebbero sentirsi, nonostante la proverbiale solidità di una piccola banca, molto cresciuta, tenendo sempre i piedi per terra.